...un antico di cenevissatica. Grazie del gelato, ma preferisco un aperitivo. Allora, lei è accompagnato anche da un vistoso assegno da mille euro. Ci spiega il significato di questa iniziativa... Magari se lo solleviamo così... ...economica e generale. ...ecomandiamo anche i testimoni oculari di questa consegna. Io sarò sincero, dato il momento così fortemente pieno di emozioni, ho cerchato di prepararmi qualcosa per leggere ciò che dovevo semplicemente dire per stasera. Se permettete... Prego, prego, prego. Scusate. Ma vedendomi così tra persone così... Se ce ne ha degli altri magari mi faccia salire. Se avanza non avrà. D'accordo. Ringrazio l'amministrazione comunale per l'ospitalità e per averci regalato uno spazio, un polcoscenico così rappresentativo, per la consegna di questo importante premio. Sono orgoglioso di essere il presidente dell'Associazione Amici del Corvo Antico e di rappresentarla questa sera, insieme ad alcuni giovani iscritti, alla consegna di questo primo premio tesi di laurea di Cinevistatica. L'associazione, come è già stato detto, è nata per portare un fattivo contributo alla crescita culturale, sociale e, perché no, anche gastronomica, come testimoniano le nostre sagre, San Martino, Sant'Antonio Abbate e sui dolci pasquali, il cui ricavato viene interamente utilizzato in favore della collettività. L'Associazione Amici del Corvo Antico ha da anni consolidato il rapporto con la comunità cegliese e, come da statuto, impegna ogni sua risorsa in favore della nostra città, con particolare attenzione verso i giovani, ormai numerosi nel sudalizio, che è aperta a tutti coloro che intendono iscriversi e dare il proprio sostegno alla sua crescita. La nostra concittadina, la dottoressa Maria Domenica Maggiore, è risultata la vincitrice di quest'anno. Un applauso. È un po' più forte questo applauso. Continuerà il provento con tutti voi, pensate? È fantastico. Ma mi corre l'obbligo di ringraziare gli altri partecipanti, i dottori Gianfranco Antico e i Damianuleo, che hanno presentato e lavorato di notevole spessore scientifico e culturale, meritevoli di essere dati alle stampe. Siamo particolarmente orgogliosi che anche questa iniziativa, il primo premio tesi di laurea, è stata portata positivamente a termine, un impegno che è stato possibile grazie al contributo della comunità cegliese, che ha sempre risposto positivamente alle nostre iniziative. Colgo l'occasione per annunciare che dal prossimo anno il premio tesi di laurea sarà aperto anche ad elaborati che hanno come argomento la gastronomia. Sono particolarmente lieto, adesso passiamo al consegno ufficiale, sono particolarmente lieto di consegnare il primo premio tesi di laurea celebre sapica alla nostra concittadina Maria Maggiore Domenica. Grazie. 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 Grazie ancora a tutti quanti, soprattutto all'amministrazione comunale e soprattutto a tutta gente che ci state ancora sopportando delle nostre iniziative. Vi aspettiamo quest'inverno con la prima sagra di San Martino e poi a gennaio Sant'Antonio Abadi in Valle d'Irtia. Grazie ancora a tutti quanti, al dottor Peragini, alle signore. Allora con un applauso agli amici del Borgo Antico andiamo avanti con il nostro programma ed entriamo proprio nel vivo di questo appuntamento. Un appuntamento che come vi dicevo vedrà protagonisti quelle che sono le espressioni dell'eccellenza della ristorazione di Ceglie Messapica. E allora io chiamerei sul palco i primi rappresentanti nelle persone di Francesco Nacci e di Angelo Sinibello. Prego. L'applauso è sempre credito per questi chef. Dove sono i protagonisti di questa primissima fase di questo show della cucina? Qui da Piazza Plebiscito di Ceglie Messapica un appuntamento che ormai si rinnova per la sesta volta, caro Barti. Sesta volta e quindi andremo avanti a... Ormai è stituzionalizzato come appuntamento e non ti nascondo che per me questa dimensione di questa edizione 2014 è una dimensione speciale perché avevo un altro ruolo fino al scorso anno. Eccolo qui Francesco Nacci. Francesco buonasera. Un applauso per me. Buonasera. Ma non c'è un petto Barti vedere tutti questi, questi attrezzi, no? Manca l'illino e noi in effetti stiamo... Per problemi di pezzo, Angelo Sinibello ha bisogno di qualche minuto in più. Ma sta arrivando, sta arrivando. Ecco, dicevo Michele, vedere tutti questi attrezzi, insomma, parliamo sicuramente di attrezzi di altissima qualità per la spropostura. Maestro buonasera, benvenuto. Eccolo qui. Ce l'ho fatto. Un applauso anche per l'illino Sinibello, ormai lo conoscete tutti, chiamarlo Angelo quasi diventa... C'è però una... ecco, giustamente toglie via questo grembiule di Buonapuglia perché da contratto noi dobbiamo avere il grembiule del CELC Festival 2014. Questa è una divisa ufficiale, no? Esattamente. Poi parleremo anche di questa iniziativa di cui Angelo e Francesco sono esponenti. Intanto, voi che cosa preparate stasera?